Benvenuti al Tg Sport, alla seconda parte del Tg Sport, che è tutto illustrato sulle notizie, risultati, delle probabili notizie delle partite che ci giocheranno anche nei prossimi giorni di stasera. Andiamo a vedere i risultati di ieri, di Serie A, la trentesima giornata, dove abbiamo visto che l'Inter aveva vinto martedì sera contro il Cagliari per 4 a 0. Poi invece c'è stata la partita tra Benevento e Atalanta, che ha visto vincere l'Atalanta per 3 a 0, mettendo Benevento con un piede già in Serie B. Poi altre partite alle 20.45 sono state queste, Eras Verona-Sassuolo 1 a 0, Sampdoria-Bologna 1 a 0, Crotone-Juventus 1 a 1, Torino-Milan 1 a 1, Roma-Genoa 2 a 1, Spal, Chievo-Verona 0 a 0, Fiorentina-Lazio, partitona epica veramente, 3 a 4, è partita che mi tocca proprio leggere, io non so più che dire, non ho più parole, non riesco neanche a fare più la puntata speciale dell'Udinese, non riesco più, Napoli-Udinese 4 a 2, punto, non so che dire altro, io sono arrabbiato con la società, con Gino Pozzo, con tutti i direttori sportivi che non sembrano un cavolo, perché sono lì e non fanno niente, giocatori che dicono scusa del ritiro e dopo fanno metà figura a Napoli solo perché c'erano tanti che guardavano Napoli, quindi lasciamo stare, io avrei già venduto la società, chiaro, io salvo solo 8, il tifoso che parà un pozzo, che è stato reale di Gino Pozzo, che non sa gestire una società e altro, questo è il mio sfogo, io sono stufo di vedere i giocatori che prendono per sedere i noi tifosi, da 10 sconfitte consecutive, siamo alla mattina decima, con il mio cotone sarà una partita di salvezza, come una finale, e se non giocano bene, si prepareranno sicuramente alle prossime partite senza tifosi, chiaro? Parliamo invece della Premier League, 35 giornata, Brown Mound perde contro Massimo United per 0-2, Liga Spagnola, 33 giornata, Valencia perde contro Godafs per 1-2, Espagnola e Ibar 0-1 pareggio tra 1-1, tra Real Madrid e Atletico Bilbao, dove il pareggio ha salvato Real Madrid con sempre lo storico Cristiano Ronaldo, invece andiamo a vedere le semifinali di andata della Coppa della Germania, tra Sacri 0-4 e Francoforto, ha vinto Francoforto per 1-0, notizie invece, come diceva, la Coppa di Francia, semifinale, prima che perde contro la Coppa di Germania 1-3, notizie delle NBA, primo turno, andiamo a leggervi che i Blazer hanno perso contro i Pelicans per 102 a 111, i Celtic Boston vince contro i Bucs per 120 a 106, invece i Toronto Retters vincono contro i Washington Wiggins per 130 a 119, poi c'è anche, se volete sapere, anche il giro della Croazia ha vinto davanti a Nizzolo e Minali, poi il giro delle Alpi, primo Ogoron, poi il secondo Pinot e terzo Pozzovivo, parlo perché ci sono gli italiani, andiamo a vedere invece che coach ci sarà stasera, Premier League, 31esima giornata, si recuperano le partite non giocate, Brunley giocherà contro Chelsea alle 20.45, invece per la trentesima giornata c'erà l'Esser City contro Southampton, 20.45, invece per la trentesima giornata Liga, Real Sudelad e altre Madrid giocheranno 19.30 come Avales contro Girona, alle 21.30 invece giocheranno Levante contro Malaga e Betty Sevilla contro la Spalmas. Nelle partite invece della Eurolega di basket, quale di finale, Cesc Capomons contro Kim Kim alle ore 19 stasera e Panantinaico contro Armadale alle 20.15. L'usuale di questa notte, primo in torno di playoff di NBA, Utah Rogers vince 102 a 82 contro Minnesota Towers, poi City Thunders perde contro l'Utta Iets per 95 a 102, invece i Cavaliers come dicevo prima ha vinto per 100 a 97 contro l'Indiana persa, invece domani andiamo a consultare, ci sono partite o altro dei vari campionati in giro per l'Europa o di altri sport, andiamo a vedere che cosa c'è per domani, vi leggo che ci sarà solo la Bundesliga e la Liga, quindi Bundesliga ci sarà alle 20.30, Borussia Montbarblanc contro Fosburg che è anticipo della giornata di campionato alle 20.30, invece la Liga Spagnola, Legans contro il deporteo della Corogna alle ore 21, poi si tornerà sempre come al solito alle partite di sabato dove si vedrà anche la Roma giocando contro la Spalma alle 15.00, poi come al solito si torna al campionato di solito come Premier League, Serie B, poi Bundesliga, anche se sono chiusi diciamo che sono stati già a Senesi Scudetti ma ci giocano lo stesso per finire i campionati di regole regolamentari. Bene, mi spara di aver finito, vi ringrazio per l'ascolto, ci sentiamo domani per le probabili informazioni di tutte le partite di campionato per la prossima che arriverà questa weekend, da Marco è tutto, vi auguro una buona giornata, un buon procedimento della settimana, da Marco è tutto, da WG Nord Est, a domani, ciao a tutti e sicuramente domani ci sarà il TG Sport a due parti come oggi, grazie a tutti e a domani.